Ciao a tutti ragazzi! Qui oggi sono con mia zia, che si chiama Teresa. Ciao! E vabbè stavo per dire, zia saluta. Qui sono con la tv accesa, con le persiane chiuse, ed è fighissimo come potete vedere. Guardate, qui ci sono i nostri piedi. Zia fa vedere i tuoi piedi? Ci abbatte. Ieri sera è venuto a dormire da me. Certamente, perché noi siamo amiche del cuore. Aiuto! Ok, qui ci sono le mie bambole. E qui? C'è qualcosa che vola! Va bene ragazzi, ma adesso questo video deve finire, anche se è durato pochissimo. Anzi, e vi avverto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessun video. Zia saluta! Ciao ragazzi! Ciao!